buongiorno a tutti amici di motordiani per voi una veloce cattura una bellissima matra siamo in occasione di un raduno un raduno d'auto d'epoca sentite che rombo catturata velocemente per voi amici del canale un raduno qui nella campagna torsiana sulla cassia catturata per voi e per gli amanti del genere questa bellissima matra mettite la confusione ciao a tutti amici di motordiani ciao a tutti dalla vecchia show